Questo sabato presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Arezzo verrà presentato un convegno dal titolo Genitori e figli nell'era del web. Quali saranno i contenuti e qual è lo scopo per cui è stato organizzato? I contenuti sono quelli di interrogarci tutti insieme sulle tematiche che oggi sono molto importanti riguardo l'uso dei social network e della rete, le opportunità, i problemi che emergono e chiaramente è destinato ai genitori, anche ai figli perché si tratta anche di entrare in relazione ma alla fine a tutti perché chiaramente vale anche per un discorso di educatori, insegnanti, ecco tutte le persone che hanno a cuore la formazione delle giovani generazioni e di noi stessi in un'epoca così fortemente influenzata dagli ambienti digitali. Quali saranno i consigli che darà effettivamente ai genitori? Quali indicazioni anche ai figli? Sì, a volte si pensa che la soluzione immediata sia quella tecnica, cioè programmi, controlli. In realtà questo, lo vedremo, ha una sua risposta, una sua valenza magari con bambini piccoli. Il punto fondamentale però è quello di essere consapevoli di quelle che sono le caratteristiche e quindi credo che la risposta veramente importante sia una risposta di tipo educativo. Per questo invito, quanti potranno partecipare, essere presenti sabato prossimo, 18 maggio alle ore 15, alla sede appunto dell'Istituto di Scienze Religiose che gentilmente organizza e ospita questo nostro incontro perché è importante la riflessione comune che possiamo fare.